Contro il clima di paura e di risentimento che attraversa il paese, anche a Napoli parte una grande immobilitazione dal titolo Prima le persone. L'appuntamento nel capoluco partenopeo domani 4 maggio a Piazza Mancini alle 10.30, corteo che segue le iniziative milanesi e triestine dei mesi di marzo e aprile. Prima le persone sarà una manifestazione popolare e decisa a determinare un cambio di rotta nel paese e affermare la necessità che siano individuate e attuate nuove polisi fondate sull'accoglienza e rispetto dei diritti umani e delle pari opportunità e di dialogo. La conferenza di presentazione dell'iniziativa si è tenuta al multicinema modernissimo con la partecipazione degli organizzatori e le realtà che hanno aderito all'appello. Ascoltiamo l'imprenditore cinematografico Luciano Stella e Fatù Diaco, presidente dell'associazione di volontariato Amef. A questo appello di 2.000 cittadini hanno aderito poi 180 organizzazioni tra cui le organizzazioni sindacali, le organizzazioni di donne, le organizzazioni che fanno lavoro sui migranti, la chiesa, la fondazione San Gennaro. Quindi c'è una rete molto larga perché legittimamente nelle differenze ognuno sente che effettivamente prima le persone non è solo uno slogan, è una necessità di convivenza e di vivenza positiva del nostro paese. Io sono napoletana, afro-ivaro napoletana, quindi difendo il nostro territorio, difendo tutte le associazioni, difendo i napoletani e difendo tutti gli immigrati.